Italiano in un minuto. Episodio tredici. Ne. Seconda parte. Ne è un pronome ed essendo tale serve per sostituire il nome ed evitare di ripeterlo troppe volte nella conversazione. Ma come capire quando si può usare ne? Ne, come ho già spiegato nell'episodio precedente, sostituisce qualcosa ed è associato a specifiche preposizioni. Ovviamente di, ma anche da. Ad esempio, lei è un'attrice famosa e parlano tutti di lei, di quest'attrice. Frase comprensibile, ma che sarebbe più naturale così. Lei è un'attrice famosa e ne parlano tutti. È davvero un galantuomo e sono affascinata da lui, cioè da quel galantuomo. Anche in questo caso la frase è comprensibile e anche corretta, ma sarebbe sempre più naturale usare il ne. Proprio così. È davvero un galantuomo e ne sono affascinata. Per essere sicuri di usarli meglio, provate a scrivere delle frasi nei commenti. E mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio!